Risultato, dice il prefetto di Foggia Maurizio Vagliante, all'indomani delle operazioni di sgombero di tre case popolari occupate abusivamente. 20 in tutto gli alloggi liberati da novembre e ce ne sono altri 200 che lo saranno nei prossimi mesi. Michele Peragine. I primi 20 alloggi sono stati sgomberati. Tre appena ieri ne restano altri 200 comunali e dell'ex istituto case popolari, oggi Arca, immobili occupati senza titolo da nuclei familiari con componenti appartenenti ad organizzazioni malavitose. Viene così dato seguito ad un preciso impegno della premier Giorgia Meloni, ribadito durante la visita a Foggia del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. La lotta alla criminalità va condotta anche garantendo il patrimonio pubblico dalla diffusa fruibilità abusiva. L'aspetto ancora più intollerabile era che venissero occupati proprio da soggetti malavitosi e quindi dove era richiesto in maniera forte e prioritaria un intervento di ripristino di una legalità in un territorio che è martoriato e vessato da questa prepotenza e da questa cultura della barbarie con cui opera la criminalità organizzata di questo territorio. Queste famiglie dove si sono trasferite? È stato valutato che avevano delle situazioni alternative, ma questo a noi interessava poco. La cosa che interessava è che lasciassero quegli immobili, perché ogni situazione è stata puntualmente valutata sotto il profilo dell'esposizione in relazione anche al proprio pedigree criminale e anche in relazione all'eventuale situazione reddituale, possibilità di trovare delle soluzioni alternative e anche la valutazione delle eventuali situazioni di fragilità all'interno del nucleo familiare. Ma l'aspetto prioritario era che dovevano liberare immediatamente questo immobile. Non era consentito assolutamente alcuna forma di tolleranza in considerazione del fatto che si stava quasi consolidando impropriamente questa loro permanenza in immobili dello Stato.